Il discorso di Putin e cerchiamo di capire tra le righe, vediamo, questo atto malvagio, questo attacco contro la Russia, contro il nostro popolo, questo attacco per la Russia, per il nostro popolo, vediamo, che è l'agrota del terroirismo, questo è il passaggio cruciale del discorso, qui parla del terroirismo, fa riferimento, ovviamente, al terroirismo islamico, all'Isis, e si dice pronto Vladimir Putin a collaborare con tutti gli Stati, ergo, come io ho già precisato, anche con gli Stati Uniti d'America. Vladimir Putin lo sa, che il terrorismo è un nemico insidioso, perché penetra nei gangli dello Stato, quindi Vladimir Putin ora sa che il terrorismo va combattuto anche con l'alleanza con gli Stati Uniti d'America. Io l'ho già detto queste cose, cari amici, l'ho già detto. Eh sì, l'Isis ha sbagliato, ha sbagliato, l'Isis ha sbagliato. Ora vedrete che si uniranno Stati Uniti d'America e Federazione Russia. Grazie. Grazie.